Continuiamo a parlare di calzature, però questa volta calzature da uomo finalmente perché anche l'uomo necessita di queste calzature. Calzature molto particolari, a parlarne qui con noi il presidente e direttore creativo del brand calzature Graziano Maggio e qui siamo proprio con Graziano Maggio. Allora Graziano quando nasce il tuo brand? Il mio brand nasce da poco come brand è proprio Graziano Maggio, in realtà come produttore di calzature da uomo è una storia che risale a molti anni fa, sono figlio d'arte perché anche i miei avi erano dei produttori di calzature, per cui è nato adesso questo monimo brand che porta il mio nome proprio perché ho deciso di andare avanti con la tradizione e cercare di mettere qualcosa di mio che avesse anche il mio nome. Io quello che hai portato qui per questo progetto l'ho già visto, le scarpe sono davvero, le calzature sono davvero molto belle, ce ne vuoi parlare tu? Sì, le calzature ho cercato di portare qua quella che è l'essenza del prodotto proprio made in Italy, fatto in maniera molto particolare e proprio era il caso insomma di portare qualcosa che rispecchiasse veramente il gusto e la bellezza di portare ai piedi anche le scarpe da uomo perché magari la donna è molto più particolare come costruzione però anche l'uomo magari si differenzia dai piccoli tocchi che sono quelli appunto che fanno differenza. Quindi ho portato qui delle calzature proprio per questo centenario adatte a quelle che è l'evento, sono stato molto contento di farlo e spero che siano piaciute insomma a tutti. Di questo ne sono convinta perché ho già sentito i commenti e quindi i commenti sono molto positivi, poi le scarpe sono bellissime quindi non poteva essere altrimenti. Progetti futuri? I progetti futuri senza grandi ambizioni, rispecchiare un attimino quello che è proprio il mestiere, cercare di produrre, di fare costruire delle calzature che siano delle cose importanti, che trasmettono veramente delle emozioni come rispecchiano proprio il gusto di poter rifare. La scarpa proprio è fatta di emozioni perché è fatta a mano, cerchiamo di mettere a fuoco soltanto quello. Graziano, allora per tutti i nostri amici di HTO che volessero avere maggiori informazioni su tutto ciò che riguarda il tuo brand, come possono fare per contattarti? Possono contattare il mio sito internet che è grazianomaggioshoes.com Grazie mille e di nuovo complimenti. Grazie a voi. Grazie a voi.